Settima corsa all'ippodromo delle Capannelle abbinata alla seconda Tris in pista Anziani non vincitore di 7.000 euro nell'ultimo anno 1.640 i metri Orocaf, Pacific Griffo, Plauio, Ophelia B, Nelson, Nespolito, Dessasco, in seconda fila Never B, Nosaka Prava, Omero Griff, New Hope. Senza ferri posteriori Nelson, senza posteriori anche Omero Griff. 100 metri allo stacco, macchina che accelera gradualmente, rinuncia al lancio Dessasco. E allo stacco cerca di emergere Nelson che scavalca il numero 4 Ophelia B, rimontata all'interno da Orocaf, poi Nespolito, in cerca di una posizione, partito bene dalla seconda fila New Hope. Ancora Pacific Griffo. Parziale violento per andare a chiudere i 400 iniziali. Nelson li transita in 28 e 4, una misura nella giornata di oggi. Orocaf ne segue la scia, da fondo gruppo si mette in moto Nosaka Prava, che cerca di approfittare del rallentamento del leader. Ha preso la via del largo anche Nespolita. 600 in 43, continua a Granlena Nelson. 14 e 7 la frazione, sono formate 4 pariglie all'inseguimento, capeggiate da Ophelia B, che è in schiena Nespolita, Nosaka Prava e poi Omero Griff. 800 in un minuto appena abbondante. Non ammette interferenze, al momento Nelson si muove Nespolita al suo inseguimento, le cui mosse sono seguite da Nosaka Prava. Chilometro in 1, 15 e 7, 14 e 8 di frazione. Nonostante questo, Nespolita si migliora all'esterno, trascinandosi sempre e Nosaka Prava. Lungo la corda è ancora Orocaff, attacco dei 400 finali con Nelson che allunga ulteriormente 1, 30 e mezzo, i tre quarti di miglio, con Nelson in vantaggio. Poi Nespolita e Nosaka Prava, retta d'arrivo, mancano 300 metri al palo, con Nelson lanciato al comando, si ingamba in mezzo alla pista, Nosaka Prava che va su Nelson, che deve essere sostenuto, ultimi metri, Nelson in vantaggio, Nosaka Prava finisce molto forte al suo esterno, mancano 100 metri al traguardo, Nosaka Prava a Pariglia, Nelson e lo battezza sul traguardo. Il successo per Nosaka Prava, Andrea Farolfi, 1, 59 e 9 sul mio cronometro, misura intorno all'1, 14 e 9, 44 e 2. I 600 finali le approvate tutte, Gianpaolo Minucci per mettere in difficoltà, l'avversario dichiarato, Nosaka Prava ha pagato Dazio in retta d'arrivo, il cavallo ha accusato la corsa in avanti ad alta media, Nosaka Prava, vediamo gli ultimi metri, si è ingambato alla grande in arrivo e sul traguardo viene a pizzicare l'avversario, 9, 5, poi scorrono le immagini, andiamo a vedere per il terzo posto sul traguardo e ancora la numero 6, Nespolita, vince Nosaka Prava, Andrea Farolfi sul Chicarlo Belladonna al training, i colori della scuderia Lainate Nord. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.